A settembre 1982 la Opel presenta la prima vettura del rinnovamento del marchio, la Corsa. E' una piccola utilitaria che anticipa la nuova filosofia del segmento B, che vedrà nei primi mesi del 1983 l'esordio della Fiat 1 e della Peugeot 205 e nel 1984 della Renault Super 5. Tutte diventeranno i modelli più venduti dei rispettivi marchi a rimarcare l'impegno progettuale profuso e la qualità oggettiva. La battaglia tra le case, in quegli anni floridi, veniva combattuta su vari piani, compreso quello delle competizioni. La Opel, che con le Ascona e Manta 400 era già impegnata nel più famoso campionato rally della storia, quel gruppo B riservato a mostruosi prototipi e a piloti con la P maiuscola, valutava l'opportunità di realizzare una vettura per la classe B9 dello stesso campionato, quella riservata a vetture con cilindrata fino a 1300 cm3, e inizia a sviluppare una variante della neonata corsa con questo scopo. Il progetto coinvolge Centro Stile Opel, incaricato della definizione del design, Opel Motorsport e la Irmsher, azienda specializzata in elaborazioni su base Opel. Dopo un lavoro durato circa un anno, al Salone di Francoforte del 1983, quella che sembra la creazione di un tunnel tedesco, fa bella mostra di sé allo stand Opel. È una corsa dall'aspetto ipervitaminizzato e si chiama Corsa Sprint. La carrozzeria è in gran parte realizzata in vetroresina ed è il risultato di attenti studi aerodinamici e funzionali per le esigenze dell'impiego in gara. Il paraurti anteriore, più avvolgente e profilato, integra due coppie di fari supplementari, di cui due più grossi, rotondi, sono collocati al posto della mascherina. Il cofano motore presenta al centro una serie di prese triangolari che riprendono il disegno di quelle viste sulle Ascona e Manta 400. I parafanghi sono allargati per ospitare ruote di dimensioni generose e sono raccordati tramite una bandella inferiore. Sia quelli anteriori che quelli posteriori terminano con una grossa apertura che consente lo smaltimento del calore dei freni dai vani passaruota. Da quelle posteriori traggono origine dei sottili listelli che ricoprono i gruppi ottici. Il paraurti posteriore, decisamente massiccio, presenta diverse aperture nella parte inferiore, che hanno funzione aerodinamica. Infine il portellone posteriore, incorniciato da uno spoiler simile a quello dell'ASR e che verrà ripreso dalla prima Corsa GSI. Le grosse ruote rendono più aggressivo l'aspetto della vettura, che è verniciata nel bianco, interrotto dalle decas gialle e grigie, della livrea Opel Motorsport. L'interno è quello di una vettura racing dell'epoca, ma decisamente curato nei particolari e nel design. Al roll bar a gabbia, che rispettava le normative del gruppo B, era abbinato al rivestimento in alluminio del pavimento e dei pannelli posteriori. Quelli anteriori sono molto curati nella loro essenzialità. La plancia è minimalista e ospita un cruscotto essenziale ma ordinato. La strumentazione, frutto di uno studio del centro stile Opel coperto da brevetto, prevedeva strumenti singoli di chiara espirazione motociclistica, dotati di fissaggi rapidi e di cablaggi volanti, che permettevano una veloce dislocazione in base alle esigenze del pilota. Il tachimetro, oltre alla scala analogica, ha anche un piccolo display digitale, mentre a destra è montato il Tripmaster per il navigatore. Il volante è un tre razze da gara e la leva del cambio è la stessa della Corsa SR. I sedili da gara forniti dalla Recaro sono rivestiti in tessuto ignifugo rosso e hanno la struttura in resina bianca. Dietro i sedili è montato un serbatoio regolamentare da 80 litri, sul quale sono collocate le sedi di alloggiamento dei caschi durante le tappe di trasferimento. Per quanto riguarda l'aspetto meccanico, gran parte del lavoro è stato eseguito dalla Irmscher. Questa azienda, legata a doppio filo alla Opel, ha lavorato su tutti gli aspetti al fine di ottenere una vettura altamente performante e affidabile. I tecnici tedeschi sono partiti dalla prima versione sportiva della piccola Opel, la Corsa SR, dotata di un 1.3 monoalbero da 70 cavalli. Questo motore ha subito una profonda elaborazione. A partire dall'albero motore alleggerito e bilanciato, al quale si uniscono pistoni forgiati, bielle rinforzate e volano alleggerito. La testata è modificata con l'adozione di valvole maggiorate e lucidatura di tutti i condotti. L'asse a camme è specifico. L'alimentazione è affidata a due grossi carburatori Weber doppio corpo ad aspirazione libera tramite trombette. Il collettore di scarico, frutto di attenti studi, è un 4 in 1, al quale è abbinato un impianto di scarico dalle caratteristiche racing. Tutte queste modifiche hanno portato la potenza a ben 126 cavalli, valore prossimo ai 100 cavalli litro che garantiva prestazioni molto elevate per un piccolo 1.3 aspirato, sebbene realizzato per le corse. La Opel dichiarava soltanto il dato sullo scato da 0 a 100, che la Corsa Sprint bruciava in poco più di 8 secondi. Per quanto riguarda la velocità massima, alcune voci parlavano di una punta superiore ai 210 km orari. Il peso indicato tra i 700 e i 750 kg contribuiva alle performance della Corsa Sprint. Il cambio a 5 marce ha rapporti rivisti e la frizione ha componenti da competizione. Le sospensioni conservano lo schema originale, ma sono modificate nelle regolazioni e nella componentistica, con l'adozione di barre antirullio maggiorate, ammortizzatori bilstein a gas regolabili e molle ribassate e rinforzate che riducono l'altezza di 30 mm. Le ruote hanno dimensioni decisamente maggiori e sembra che anche la sterza fosse modificato. Con queste premesse, se la Opel voleva stupire, ci riesce e la Corsa Sprint ottiene un grosso successo. Di conseguenza, la produzione di una piccola serie, che contempli 200 esemplali richiesti dal regolamento gruppo B e accontenti gli appassionati disposti a spendere una cifra che si annuncia abbastanza elevata per una vettura esclusiva, sembra certa. Anche perché pare che fossero confermate tante prenotazioni. Invece, la Opel cambia idea e la Corsa Sprint resta un riuscito oggetto da mostrare ai saloni prima e nel museo di Rüsselsheim in seguito. Sulle motivazioni che hanno portato all'abbandono del progetto, pare abbia contribuito un ridimensionamento del budget da parte della General Motors, proprietaria del marchio Opel, e allo stesso tempo pare abbia inciso il fatto che la visibilità offerta dalla categoria minore del gruppo B, schiacciata dal carisma dei mostri da 300 e più cavalli che monopolizzavano l'attenzione del grande pubblico, non garantisce un adeguato ritorno finanziario ai grossi investimenti previsti. Ma il progetto della Corsa Sprint e soprattutto l'eco suscitato dalla sua presentazione non potevano essere archiviati così facilmente. Per cui la Irmsher decide di presentare una serie limitata derivata dalla Corsa SR, versione sportiva della piccola di casa Opel, che chiama Corsa Sprint C. Viene presentata nel corso del 1984. Della Sprint originale riprende gran parte del design, anche se sono modificati cofano anteriore, che resta quello di serie, e paraurti, meno vistoso. Mancano i due grossi fari supplementari rotondi, al posto dei quali compare una mascherina stilizzata marchiata Irmsher. Gli interni conservano l'arredamento della Corsa SR, a parte il volante, un piccolo tre razze in pelle. La meccanica è fondamentalmente quella di serie, alla quale sono adottate poche mirate modifiche. Il carburatore lascia al posto l'impianto di iniezione elettronica Bosch, che abbinato ad un filtro aria sportivo e ad uno scarico più libero, porta la potenza a 83 cavalli. La Sprint C adotta nuove barre antirollio, ammortizzatori più rigidi e molle ribassate di 40 mm. Le ruote di serie sono abbinate a distanziali da 25 mm, a richiesta cerchi e pneumatici più larghi. Irmsher dichiara una velocità di punta di 177 km orari e un tempo inferiore ai 12 secondi sullo 0 a 100. È disponibile in quattro colori, bianco polare, nero, argento astro e rosso carmin. È stata prodotta in circa 50 unità. Nel 1985 la Irmsher presenta un'altra serie, denominata Corsa Sprint DR, è ordinabile sulla base della Corsa 1.2 da 60 cavalli o su quella della 1.3 SR. Esteticamente simile alla C, ma conserva i parafanghi della Corsa originale. Cambiano solo i paraurti, mascherina e spoiler sul portellone. Gli interni sono quelli delle versioni originali, a parte alcuni accessori come il volante sportivo. Sul piano meccanico ci sono solo leggere modifiche e propulsori originali, come il filtro dell'aria e lo scarico sportivo. A richiesta è possibile montare il propulsore da 83 cavalli della precedente C e di questa rimane l'assetto sportivo e la gamma colori, mentre i cerchi in lega, dallo stesso disegno, sono più piccoli. Di questa serie pare siano stati allestite circa 70 unità. A fine 1986 viene offerta un'ultima serie, denominata Corsa Sprint R. Questa si basa sulla GT 1.3 che intanto ha sostituito la SR come sportiva della gamma Corsa. Da questa si distingue soltanto per la differente mascherina anteriore, lo spoiler posteriore in tre parti e le scritte adesive, più dei sottili filetti gialli sui paraurti. Adotta il propulsore da 83 cavalli iniezione della Sprint C. È personalizzabile esteticamente, internamente e meccanicamente su richiesta del cliente. Di quest'ultima serie non ci sono stime degli esemplari prodotti. Tutti i componenti realizzati da Irmsher per le sue elaborazioni erano acquistabili separatamente e adattabili a qualsiasi versione di Corsa e restarono sul catalogo del Turner tedesco fino ai primi anni 2000. Inoltre, nel 1986, la Irmsher realizza una versione Speedster sulla base della Sprint C, che era ordinabile su richiesta. Se la Irmsher ha realizzato la sua versione della Corsa Sprint, resta il rimpianto per quella originale, che appare più completa e performante e che avrebbe occupato di diritto un posto di riguardo nel ristretto club delle piccole vetture realizzate per correre.